buongiorno a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video innanzitutto vorrei fare gli auguri a un mio carissimo amico che qualche giorno fa ha fatto 40 anni suonati una bellissima torta giallorossa quindi ragazzi uno molto fissato per il lecce giovanni ti saluto e ti mando un abbraccio per i tuoi 40 anni a me ne tocca l'anno prossimo quindi entrerò a far parte anche io negli anta spero quanto più lontano possibile però purtroppo mi manca all'incirca un anno e qualcosa però a parte questa cosa qui che non c'è che va bene e oggi vorrei parlare praticamente di colombo vorrei dirmi la mia sicuramente sì è un buon giocatore prospettiva quello che è quest'anno ha giocato con la spalla ha fatto 34 presenze e 6 gol però è sempre quello di un'altra sarà sempre un'alternativa ecco quindi comunque secondo te come dici no abbiamo preso strevezza così nella dalla spalla speriamo che porti fortuna anche colombo prendendolo dalla spalla ci porti fortuna io me lo auguro quindi dovrebbe essere quasi ufficiale praticamente dovrebbe essere impresso con diritto di riscatto e contro riscatto un po come fra botta che comunque è ufficiale già da ieri vabbè dici comunque a posto dei picchi gratis per un anno eventualmente c'è una piccola plus valenza perché ci sarà comunque nel senso lo compri a un totto e la juventus se lo ricompri a un altro totto quella differenza ovviamente era in tasca e lecce quindi comunque è una plus valenza senza prendere proprio gratis va bene se sarà meglio se era diritto di riscatto o obbligo di riscatto sarebbe molto meglio però ovviamente è difficile strappare quei giocatori così alle grandi squadre è normale mi sembra anche giusto edificio uno te lo dai così magari colombo quest'anno in sera facenti gol c'è capito e magari lo paghi 100 mila euro chissà quanto vale quindi mi sembra anche da una parte giusto per quanto riguarda il portiere ancora non sappiamo niente io ho sperato già ve l'ho detto la statica forse due settimane spero che entro il primo luglio trovare un portiere adesso non lo so che vogliono fare sarà brancolini il primo portiere e bleva il secondo non lo so che spero che lo prendano prima tanto non stanno dicendo nulla ma probabilmente dovrebbe arrivare un portiere almeno io me lo auguro per quanto riguarda coda ancora non si sa nulla dove secondo me dovrebbe andar via anche se si ridanno la fascia da capitano dovrebbero tagliare lui perché lui è il più anziano e poi quello è fatto ragazzi fatemi sapere cosa ne pensate se va via coda a chi la danno la fascia da capitano dovrebbero tagliare secondo me o a Dermaco o a Di Mariano secondo me più Di Mariano che a Dermaco fatemi sapere cosa ne pensate se va via coda la fascia di capitano a chi fa perché è una cosa molto importante quindi ragazzi vedremo per quanto riguarda le amichevoli il 5 e 9 e il 13 luglio con il Boncium una squadra della Bundesliga che si è salvata abbastanza facilmente come l'anno scorso che affrontammo una squadra della Bundesliga la stiamo facendo anche quest'anno è un test impegnativo per vedere un po insomma una delle dimensioni del lecce in serie a nel senso comunque è un test di serie a diciamo perché è una squadra comunque della Bundesliga che si è salvata abbastanza tranquillamente quindi sicuramente sarà una squadra tosta per noi però speriamo di non che non siamo da meno quindi fatemi sapere poi chi ha fatto l'abbonamento ve l'avevo detto altre volte tutti quelli che fanno l'abbonamento mano a mano fatemi sapere chi lo sta facendo io comunque ormai l'ho fatto mi sono tolto il pensiero il 14 agosto non si sa ancora giovedì dovrebbero uscire le date se giocherebbe secondo me giocheremo ovviamente di sera perché con questo cauto su 40 gradi ogni giorno però non si sa se giochiamo al 14 15 vedremo comunque giocheremo con l'inter e vediamo come cacchio va per quanto riguarda il resto niente ci vediamo la prossima sempre solo forza lecce fatemi sapere tutti quello cosa ne pensate ovviamente continuate a scrivere al canale glacis giallorosso fatevi un buon bagno non pensate di sempre questo cazzo de cauto perché qua sta in istesa rimu e sta bardimu sempre solo forza lecce bari vaffanculo salerno suca sempre di più baffanculo a proposito vorrei fare un saluto non l'ho fatto vorrei fare un saluto a lucioni che comunque è stato una pagina anzi non è solo lo sarà per sempre una pagina importante del lecce quattro quattro anni insieme doppia promozione mi sa fatto sei gol e 142 presenze una cosa del genere quindi ragazzi ma io ve l'avevo detto io il giorno prima avevo detto che speravo che lucioni andasse via e infatti così il giorno dopo è andato ma non che sia una critica ma perché secondo me il lucioni non è all'altezza della serie a quindi le hanno fatto un prestito gratuito al flosinone per un anno hanno fatto il prestito gratuito per un anno non lo so penso va bene la fesseria comunque prestiti un anno può dar sicuro che avevano dato qualcosa per il prestito perché mai sia non lo voglio manco dire però se mai sia e vede che già ha capito l'anno dopo come c'è un altro anno di contratto dovrebbe ritornare con noi e giocare quindi io non voglio manco dire niente ma penso che probabilmente hanno fatto per questo altrimenti gli hanno anduto no non capisco perché non l'hanno anduto ora hanno fatto per questo o comunque magari perché magari finisce la carriera a lecce non lo so non lo so non lo so comunque farà un anno lì ti auguriamo un grandissimo bocca al lupo sicuramente farai bene anche a frosinone e ci vediamo la prossima ciao lucioni ciao a tutti ragazzi forza lecce